Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Dove in pratica noi corriamo con la visuale dall'alto, lo giocherò con il pad ed è un gioco che ha diverse possibilità di collezionare auto diverse e che dà la possibilità di costruire i circuiti personalmente insomma quindi adesso non lo farò però insomma è giusto per mettervi al corrente che esiste anche questa possibilità di costruirvi i vostri circuiti personali. Ora io vado a saltare il tutorial perché voglio uscire e vi faccio vedere le modalità di gara. Il gioco ha il multiplayer ma non il multiplayer online purtroppo ma solo con il remote play dove voi potete streamare a un amico che non ha il gioco oppure giocare a schermo condiviso e la partita in multiplayer vi consente di giocare un gran premio o una gara libera su una delle piste scaricate presumibilmente da un workshop perché ho dimenticato di dirvi che il gioco esce il 27 quindi lo sto giocando prima del rilascio non so se vedrete prima o dopo il giorno di rilascio quindi non so dirvi anche il prezzo. Qua abbiamo la possibilità di fare la campagna oppure il gran prix la corsa ostacoli la corsa libera o l'attacco al tempo il gran prix ci consente di fare questa coppa al momento c'è questa poi si sbloccheranno se ne sbloccheranno altre dove possiamo andare a gareggiare con altre persone. Mentre invece la parte più che mi intriga di più è la carriera dove andremo ad affrontare queste piste e dove andremo a scegliere l'auto iniziale. Al momento abbiamo queste ognuna ha una peculiarità una velocità massima un'abilità in curva diversa dalle altre. Insomma abbiamo questa classica mini queste auto simbolino proprio tutte atari ma io sono fedele al mio fare questa e vi faccio vedere subito in che cosa consiste il gioco. Non è eccessivamente complicato al momento poi non so se siano solo le prime le prime gare però la cosa carina è che c'è un ampio uso della fisica. Nel senso che se vi scontrate con dei nemici magari questi nemici avversari possono sollevarvi la macchina e potreste finire sopra l'auto di un altro e quindi avere una o più ruote che non toccano terra e avere dei grossi rallentamenti. Quindi perdere la gara anche per una stupidata per un'ultima curva sbagliata in malo modo. Quindi è molto interessante per quanto sia molto molto semplice ora la conclusione di queste gare che sono tale giri. Molto molto semplice da otto secondi l'uno abbiamo i punti la cosa interessante io avevo giocato tantissimo a generelli ci avevo perso veramente i pomeriggi con gli amici con il joystick e la tastiera due giocavano con la tastiera uno col joystick perché la cosa interessante di quel di quel titolo è che aveva anche le fermate ai box. Quindi la possibilità di centrando giusto la casella dei box con i meccanici che erano dei diciamo pirolini che spuntavano dal terreno riparavano l'auto cambiavano le gomme facevano benzina era molto molto interessante come come gioco. E c'erano tantissime sfide salti e diciamo battaglie dove comunque buttavamo i nostri amici nel fossato facendoli perdere tanto tempo. Quindi quello era il vero gioco da cui comunque questo prende ispirazione. Dipende come andrà portato avanti questo gioco al momento probabilmente adesso io non ho scelto la difficoltà quindi non è per niente difficile sicuramente giocandolo con amici quindi a schermo condiviso ma spero arriverà una modalità online. Ci sarà da divertirsi tra l'altro quest'auto come dicevano anche le statistiche non curva per niente bene quindi devo fare la curva molto più lentamente rispetto agli altri. Vedete che sono andato a sbattere e ho rallentato un po' adesso poi diventerete bravi e migliorerete anche il tempo sul giro. E' un gioco molto è un passatempo non è un racing game passatempo dove comunque vi divertirete adesso vediamo un attimino come va avanti questo campionato che sto vincendo a mani bassissime. C'è l'ultima gara e poi completeremo questa coppa una sfida ok andiamo che sfida è questa mi suona di tosta sì perché sto sfidando questa tizia infatti l'ultima gara era una sfida contro uno degli sfidanti. Infatti questa pista un po' vagamente ispirata non so se al Giappone qua bisogna prenderla stretta ma la cosa più interessante è anche la possibilità di creare le piste dipende quanto poi saranno varie le piste al momento diciamo che questo gioco qui potrei dire non prendetela poi come una critica eccessiva però al momento per quello che ho visto finora 10 euro direi per gli appassionati 5 euro da valutare seriamente. poi può sembrare una critica però al momento io è vero c'è la creazione delle piste però insomma ok dovrei aver finito questa super sfida dovrei aumentare un po' la difficoltà devo capire come fare comunque ho vinto anche questa sfida uno contro uno. vediamo cosa succede direi che a mani basse ho vinto oh my god sei come sei davvero bravo ok back to campaign ok abbiamo sbloccato delle cose abbiamo sbloccato nuove auto nuove varianti per la pista bello questa cosa carina è molto carina e la cosa ostacoli quindi praticamente noi abbiamo sbloccato adesso quella cosa lì allora greenwoods 1 abbiamo vinto tutto con rb possiamo passare alla fase successiva tra l'altro io volevo andare a dare un'occhiata un attimo alle impostazioni se ci sono qui c'è il player profile con il tempo di gioco salti completati i settings con accessibility no scusate input and language non c'è l'italiano quanto visto manage control no non ci sono non ci sono livelli di difficoltà comunque race now vediamo un attimino come continua la campagna con siamo sempre all'interno di questa coppa ma col secondo dove non conosciamo ancora il nostro nostro avversario vedete che abbiamo non è che abbiamo sbloccato auto ma abbiamo sbloccato colore quest'auto qui infatti abbiamo sbloccato questo colore qua la prendo giusto per provare un'altra auto e vedere un attimino come funziona e parto lì in fondo sembra piuttosto di prima ma in realtà in realtà no sto già andando via è tutta un'altra guida rispetto a prima è un'auto molto più ancorata al terreno per quanto credo che la difficoltà vada aumentata ecco vedete quello che è successo voi potete perdere una gara anche solo per uno sbaglio del genere perché la vostra auto rimbalza salta via sembra quasi un'auto radiocomandata si stacca dal terreno molto facilmente final lap eccolo lì ho rischiato di nuovo e pensate che appunto questi tasselli di queste piste li sbloccate andando a vincere la modalità carriera non è nulla di che fa gridare il capolavoro però vi dà comunque uno stimolo ad andare avanti e sbloccare nuove cose ho preso anche un achievement di steam per aver usato una skin sbloccata io non so in realtà se sui settings abbiamo modo focus on track no camera eh no vedete audio input graphic quality level come mai non è su height ok apply changes vediamo quest'altra pista poi quando giocate online avete più impostazioni perché giocate online scusate giocate con amici perché lì si vi fa scegliere la difficoltà quindi secondo me aumenterà con l'andare avanti delle coppe perché lì avete tre livelli di difficoltà dei nemici e soprattutto potete aspettate che devo fare questa curva ok e potete scegliere anche la durata delle gare e soprattutto sbloccando piste sbloccate piste anche per il multiplayer con amici poi secondo me online sarebbe veramente figo se pensiamo che attualmente uno dei migliori esponenti di questo genere quindi visuale dall'alto multiplayer cose da sbloccare secondo me è series superstar che tuttavia online è veramente proibitivo se approcciato con giocatori che sanno giocare perché lì veramente fate vedete di quelle cose che però ecco è anche l'unico gioco che vi permette strategie so stay box e cose del genere quindi adesso continuiamo a vedere tanto stiamo andando anche abbastanza abbastanza veloci questo è un giro un pochino piuttosto vediamo una nuova pista sono quattro gare quindi credo sia la terza gara più la sfida ah tra l'altro nella modalità con amici potete scegliere se l'ordine di partenza è randomico o come lo vediamo ora in base all'arrivo della gara precedente quindi in questo caso vedete io sono estremamente lento ma i nemici sono gli avversari sono scarsi quindi riesco a fermarmi fare la curva bene e loro comunque sono ancora più lenti di questo ora perdo un po' di terreno ma ancora tutto il tempo per andarmene via intanto uno però mi sta raggiungendo quindi sicuramente deve aumentare il livello di difficoltà questo è forse il giro più lungo che abbiamo fatto finora la fontana che vedete qua sotto di me adesso è una delle nuove che ho sbloccato nel vincendo la coppa scorsa da poter aggiungere alle piste ora poi io non so se scaricando le piste come si potete scaricare piste anche con oggetti che non avete sbloccato però non lo so bisognerà vedere quando uscirà non so direvi il prezzo sono veramente curioso di sapere quale sarà il prezzo perché allora a livello di grafica a livello di fisica il gioco è fatto decisamente bene quello è la cosa che voglio sottolineare quindi non è non è assolutamente male a me piacciono i giochi di questo tipo io sono cresciuto con i giochi con la visuale così da cui non mi ricordo come si chiama è Dirty Racing o Dirty Days su Game Boy ci ho bloccato era quel gioco adesso non voglio sbloccare i ricordi così a caso ma era quel gioco dove potevate giocare o con le gare delle jeep con grafica proprio in prima persona all'interno dell'auto o le visuali dall'alto con delle auto tipo open wheel ed era veramente figo quel gioco l'avevo proprio consumato ok new race ora abbiamo la sfida con Chuck che è l'avversario di questa coppa quindi andiamo a sfidarlo c'è anche un salto si sembra esserci uh lui ci taglia la strada ok lui sta andando via quindi vuoi dire che ci può battere no direi che è scarsissimo guardatelo lì vediamo se riesco a fare il salto perché vorrei completare il salto eccolo lì infatti vedete che ha qualche problemino nel path finding con Y potete ripristinare l'auto col pad quindi insomma potete salto salto da fare con estrema cura probabilmente la sua IA si è attualmente un pochino buggata perché vediamo se riesce a fare il salto lui si che ce lo fa ma voglio vedere poi se me lo ha contato o meno poi è divertente la guida ha proprio un modo di di curvare totalmente diverso da quello di prima magari secondo me è anche un po' più lenta quest'auto qui su ecco questo è un gran salto però lui è veramente vediamo se riusciamo a doppiarlo ma non credo ultimo giro ultimo giro di questa sfida no non riesco a doppiarlo salvo che non si incarti adesso ma abbiamo talmente vantaggio che posso anche tentare di fare un mega salto no non riesco a fare il mega salto uh lolo e vince e vince first place ok allora andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato e ci è rimasto male povera ok abbiamo vinto tra l'altro ci hanno sfidato con delle auto diverse allora abbiamo sbloccato un colore dei colori una variante con il bosco e la variante col salto sempre il boschetto ok a questo punto abbiamo sbloccato il terzo campionato la foresta di cedri woodland heights e forest haven con l'avversario lì che vedete in ombra che sfideremo alla fine è davvero davvero carino corso ostacoli voglio vedere che cos'è questo giusto per chiarirvi un pochino il dubbio garaggiamo con questa stavolta ah ok carino anche questo abbiamo i birilli abbiamo questo che non so cosa sia acqua ci accelera cercando di fare il miglior tempo medaglie di bronzo quindi dice che ho preso medaglie di bronzo vediamo se riesco a fare meglio meglio di prima forse vabbè carina anche questa e poi e pian piano poi ci sblocca tutte le altre le altre piste ok corso all'ostacoli vista time trial o anche la free race non so cosa sia ah vabbè sì il gran premium invece qua possiamo andare a scegliere la coppa e vedete che qua c'è la cpu difficulty la metto hard giusto per vedere la facciamo normale randomize order enable hazard attiviamo anche quelli e vediamo com'è a difficoltà difficile giusto per per farmi un'idea insomma e vedere tutti insieme com'è la difficoltà andando avanti parto ultimo ci sono hazard sono gli ostacoli che abbiamo visto prima sì la IA è un po' quella che è però sono 3 g e vediamo se ce la facciamo recuperare uno l'abbiamo passato no no ma combattono sti qua sì ho vinto lo stesso però bello bello combattuto su una pista più lunga buono 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 va bene ragazzi questo era il il gioco Neo Sprint fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video game play alla prossima ciao ciao ciao